buongiorno da toni e gaetano avviso importante vi comunichiamo che il 21 agosto 2021 presso l'istituto zootecnico per la sicilia in via roccazzo a palermo avremo l'onore di avere il replay che canteranno per autismo in movimento vi raccomando aspettatevi a comprare i bietti perché abbiamo solamente mille posti disponibili non mancate a questa bellissima serata un abbraccio grazie 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 grazie